Il Ciambellone, Mopassant Per non far scoprire il suo vero nome, diciamo che la signora si chiamava Anser. Era una di quelle stelle filanti che a Parigi lasciano dietro a loro una scia di fuoco, scrittrice in versi e in prosa, dotata di un'anima poetica e di una bellezza da far impazzire. Riceveva poche persone, soltanto gente di alto bordo, quelli che di solito vengono chiamati principi di qualche cosa. Essere ricevuti da lei era già un attestato, un vero attestato di intelligenza, o almeno era questo il valore che si attribuiva a un invito in casa di lei. Suo marito interpretava il ruolo di satellite trascurabile. Non è facile essere il coniuge di una stella. Comunque egli aveva avuto un'idea brillante, creare uno stato nello stato, per avere qualche merito personale, magari secondario. E così, nei giorni in cui la moglie dava ricevimenti, faceva lo stesso anche lui. Aveva un suo pubblico tutto particolare, che sapeva apprezzarlo, ascoltarlo, concedergli mazzoglia attenzione che alla sua più brillante consorte. Si era dedicato all'agricoltura, all'agricoltura da camera, e infatti non ci sono forse generali da camera. Non sono tali tutti coloro che nascono, esistono, muoiono negli uffici del Ministero della Guerra, e anche marinai da camera, come sopra, ma al Ministero della Marina, colonizzatori da camera, eccetera, eccetera. Aveva studiato all'agricoltura, e l'aveva studiata a fondo, nei suoi rapporti con altre scienze, con l'economia politica, con le arti. Eh sì! Perché l'arte la si condisce in tutte le salse, dato che vengono chiamati opere d'arte, gli orrendi ponti delle ferrovie. Insomma, dicevano di lui, è un uomo in gamba. Lo citavano persino le riviste tecniche, e sua moglie era riuscita a farlo nominare membro di una commissione del Ministero dell'Agricoltura. A lui bastava, questa modesta gloria. Contratesto di ridurre le spese, invitava gli amici nei giorni in cui sua moglie invitava i suoi. Così si mescolavano, anzi, si dividevano in due gruppi. La signora, col suo seguito di artisti, di accademici, di ministri, occupava una specie di galleria, decorata e mobiliata in stile impero. Il padrone di casa, invece, si ritirava coi suoi concittadinotti in una stanza più piccola, quella da fumo, che veniva ironicamente soprannominata dalla signora Anser, il salotto dell'agricoltura. I due territori erano ben delimitati. Qualche volta il signore, che non fosse geloso, entrava nell'accademia scambiando strette di mano cordialissime, ma gli accademici disprezzavano in modo categorico il salotto agricolo, ed era difficile che uno dei principi della scienza, del pensiero o di qualcos'altro, si mescolasse con i contadinotti. Quei ricevimenti non costavano molto, del tè, qualche ciambellone, tutto lì. Nei primi tempi, il padrone di casa aveva preteso due ciambelloni, uno per gli accademici, l'altro per i contadinotti, ma la signora aveva giustamente osservato che in quel modo si sarebbero delimitati due settori, due ricevimenti, due partiti. Il signore non aveva insistito e allora si offriva un solo ciambellone di cui la signora Anser faceva prima omaggio all'accademia per passarlo poi al salotto dell'agricoltura. Questo dolce diventò uno dei più curiosi motivi di osservazione per l'accademia. La signora Anser non lo affettava mai personalmente, lasciando questa funzione all'uno o all'altro degli invitati illustri. Tale incarico speciale, molto onorevole e ambito, durava per ciascuno più o meno a lungo, a volte tre mesi, raramente di più. Fu notato che il privilegio di tagliare il ciambellone portava con sé una gran quantità di altri privilegi, una sorta di regalità, o meglio, di vice-regalità molto marcata. Il tagliatore in carica si esprimeva a voce più alta, con un chiaro tono imperativo. Tutti i favori della padrona di casa erano per lui, proprio tutti. questi fortunati erano chiamati, nell'intimità e a bassa voce tra le quinte, i favoriti della ciambella. Ogni cambiamento di favorito comportava una sorta di rivoluzione nell'accademia. Il coltello era uno scettro, il dolce un emblema. Gli eletti ricevevano rallegramenti. Ai contadinotti non toccava mai il taglio del ciambellone, menché ricevesse la sua parte. Anche il padrone di casa era sempre escluso. Il dolce venne tagliato di volta in volta da poeti, da pittori, da romanzieri. Un grande musicista fu incaricato di fare le porzioni, poi un ambasciatore gli successe nell'incarico. Qualche volta un uomo meno noto ma elegante e ricercato, uno di quelli che nelle varie epoche sono stati chiamati veri gentleman oppure perfetti cavalieri o dandy o in altro modo si sedette davanti al simbolico dolce. Nel corso del suo effimero regno ciascuno di loro faceva testimonianza al marito della massima considerazione. Poi, venuto il momento della caduta, passato ad altri il gran coltello, tutti tornavano a mescolarsi al gruppo dei seguaci e degli ammiratori della bellissima signora Anser. Questo stato di cose durò molto, molto a lungo, ma le stelle filanti non brillano sempre con lo stesso splendore. Nel mondo tutti dobbiamo invecchiare. Sembrava che lo zelo degli affettatori di dolce diminuisse a poco a poco. Qualche volta quando veniva loro offerto il vassoio sembravano esitare. L'incarico che prima era tanto invidiato era meno sollecitato, durava di meno e non suscitava più orgoglio. La signora Anser era sempre prodiga di sorrisi, di atti gentili, ma purtroppo nessuno affettava più volentieri. I nove arrivati si schermivano. Gli ex favoriti a uno a uno fecero la loro ricomparsa come principi detronizzati che per breve tempo vengono rimessi al potere. Poi gli eletti si fecero rari, molto rari, per un mese intero. Che miracolo! Fu lo stesso signor Anser a tagliare il dolce. Un certo giorno se ne stancò e si vide la stessa signora Anser tagliare personalmente il ciambellone. Ma questo le costava un gran sacrificio e il giorno successivo ella insistette tanto con un invitato che questi non ebbe il coraggio di rifiutare. Ormai il simbolo del rito era sin troppo conosciuto. Gli invitati si guardavano in tralice coi volti ansiosi e spauriti. Tagliare il ciambellone in sé era cosa da nulla ma i privilegi a cui questa carica aveva sempre dato diritto adesso spaventavano cosicché non appena compariva il vassoio gli accademici scappavano tutti nel salotto dell'agricoltura come per trovare rifugio dietro al marito che non faceva altro che sorridere e quando sulla porta compariva tutta trepidante la signora Anser con il ciambellone su una mano e il coltello nell'altra pareva che tutti si stringessero attorno al coniuge legittimo quasi per implorar protezione passò qualche anno nessuno tagliava più il dolce eppure per una inveterata abitudine colai che si continuava a chiamare con galanteria la bella signora Anser cercava con lo sguardo tutte le sere un fedele che prendesse il coltello e ogni volta si creava vicino a lei lo stesso movimento un fuggifuggi generale con abili manovre allo scopo di evitare l'offerta che le veniva alle labbra un giorno si presentò nei salotti un bel giovanattino insenuo e inconsapevole egli non conosceva il mistero del ciambellone cosicché quando fece la sua apparizione il dolce e tutti scapparono via e la signora Anser prese dalle mani del cameriere il vassoio lui restò accanto a lei in totale tranquillità probabilmente ella credette che il ragazzo fosse al corrente il sorrisse disse con voce trepidante per favore signore vuole essere tanto gentile da tagliare il ciambellone premuroso felice dell'onore lui si tolse i guanti ma sicuro signora lo farò con gran piacere a distanza dagli angolini della galleria e dal vano della porta aperta sul salotto dei contadinotti li guardavano alcune facce stupefatte poi dopo aver constatato che il nuovo arrivato tagliava senza esitazione si avvicinarono rapidamente un vecchio poeta spiritoso batte un colpetto sulla spalla del neofita bravo giovanotto gli disse all'orecchio lo osservarono con curiosità e anche il marito sembrava sorpreso quanto al giovanotto stupefatto dalla considerazione che gli veniva improvvisamente mostrata non riusciva a capire le evidenti cortesie il favore manifesto e quella sorta di riconoscenza silenziosa che la padrona di casa gli dedicava però alla fine parve avesse capito in quale momento in quale stanza fu fatta la rivelazione non si sa tuttavia quando egli ricomparì alla serata successiva sembrava preoccupato quasi vergognoso e non faceva che guardarsi attorno con inquietudine arrivò l'ora del tè e comparve il domestico la signora Hanser con un bel sorriso preso il vassoio cercò con lo sguardo il giovane amico ma costruì era scappato così in fretta che non si trovava più e l'andò a cercarlo e lo scoprì in fondo al salotto dei contadinotti aveva preso sotto braccio il marito e lo stava consultando ansiosamente sulle modalità necessarie per ottenere una completa distruzione della filossera caro amico gli disse lei vorresta essere tanto gentile da tagliare il mio ciambellone lui si fece rosso fino alla punta del naso balbettando smarrito il signor Hanser ne ebbe pietà e volgendosi alla moglie mia cara amica vorresti essere tanto gentile tu da lasciarci in pace stiamo parlando di agricoltura falla tagliare a baptist la tua ciambella da quel giorno nessuno tagliò più il ciambellone della signora Hanser sisi la tua ciambella lo la tua ciambella anche ovvero la tua ciambella non ha il ciambella la tua ciambella Grazie a tutti